La storia della morte 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 40 minuti circa. A Pizzoli, le streghe che facevano questo sortileggio, succhiavano i bambini, si chiamavano Iane. Quella che vi è piaciuta di meno? No, non ce n'è. Sono belle tutte. Ringrazio veramente di cuore tutti quanti. Da esterno, da ragazzo della costa, io penso che vi potete riconoscere un grande amore che vi unisce e si vede nelle facce di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.